La lavagna si è colorata con le esposizioni all'interno delle vetrine dei disegni che hanno fatto sul cavolo i nostri bambini delle elementari e delle medie. C'è anche un cavolo vestito da Superman tra i disegni che gli alunni delle scuole di lavagna hanno realizzato per abbellire le vetrine dei negozi del centro storico. I più belli, si può votare fino a domani pomeriggio sulla pagina Facebook, saranno premiati nella mattinata di domenica, giorno di chiusura della manifestazione, sono tutti i cavoli nostri che si svolgerà nella cittadina del Tiguglio il 6 e il 7 febbraio. Una a due giorni ricca di eventi organizzati nel rispetto delle normative anti-covid a cui il comune non ha voluto rinunciare. Protagonista indiscusso sarà il cavolo Lavagnino ma anche gli altri antichi ortaggi del Tiguglio e le eccellenze del territorio come l'olio e la nocciola misto Chiavari. In programma show cooking, laboratori, conferenze e degustazioni in una location d'eccezione, il porticato Bregnardello. Ci saranno circa 20 espositori, quindi abbiamo voluto non rinunciare al mercatino agricola, ci sarà la vendita e l'esposizione di tutti i prodotti agricoli del territorio e ovviamente la farà da padrona la nostra eccellenza che sarà il cavolo. Durante la manifestazione ci sarà anche la gara eliminatoria valida per la partecipazione al campionato mondiale di pesto al mortaio. Ci sarà spazio anche per i dibattiti e i confronti in piazza Marconi nella giornata di sabato, ma non si parlerà solo di cavoli da mangiare e da portare in tavola. Sfruttando il gioco di parole si parlerà anche di altri cavoli, ovvero la questione spinosa legata alla Piana dell'Entella, dove questi ortaggi vengono coltivati e che rischia adesso di essere deturpata da un progetto di mitigazione del rischio idraulico che nessuno vuole. Al pomeriggio alle ore 15 ci sarà una conferenza sulla diga per figli e comunque sulla Piana dell'Entella. Ci sembrava importante quest'anno non rinunciare a questo evento che è la seconda edizione, proprio per puntare il dito proprio su questo progetto che Lavagna ovviamente rifiuta categoricamente e quindi l'idea di promuovere la Piana, di farla conoscere ancora di più, di far conoscere ancora di più i prodotti di questa eccellenza che abbiamo noi, ci sembrava un giusto riconoscimento.